Sono rapporti molto forti perché condividiamo degli obiettivi comuni e siamo consapevoli che la loro propensione verso attività che sono rivolte alla crescita sostenibile è in linea con i nostri obiettivi. C'è anche una grande attenzione a trasferire i risultati della ricerca di base in applicazioni tecnologiche. In questo il CNR è un partner ideale perché può vantare di molte importanti connessioni con le imprese. Questo parco scientifico e tecnologico che è stato inaugurato a Ginan offre un'opportunità veramente straordinaria per mettere a sistema queste caratteristiche speciali dei due paesi.